No, ma io ne ho detto che per due anni non ci vedi, non ci vedi, non ci vedi. Non ci vedi, non ci vedi, non ci vedi. 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 che vuol dire che si arriva e poi che succede riceve il diploma il capitano D'Arienni Tommaso riceve il diploma il capitano della squadra D'Arienni Tommaso complimenti capitano lo fai vedere la squadra è la prima classificata la prima classificata la squadra di Serravecchia il suo capitano e tutti i suoi componenti saranno gli ospiti d'onori al banchetto che si terrà nella giornata del 3 venerdì alle 20.30 via Judea il banchetto di leone acciaiuoli a cui si è invitati a partecipare il mercato del pesce andiamo dai a breve i pescatori addetti al mercato del pesce dai qui che fa super fatto la via Giorgio 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 via sei persone tre ruote